Sono 14 le mostre itineranti del Consiglio regionale che possono essere richieste in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Nella sezione mostre del sito del Consiglio è consultabile e scaricabile il catalogo con le esposizioni disponibili, tra le quali matite di guerra, satira e propaganda in Europa, piazze del Piemonte, la donna immaginata, l'immagine della donna e da moneta unica a unica moneta, 10 anni di euro.